Se esiste qualcuno che ha pensato di far esplodere un petardo nel naso di quel cane è un cretino. Non lo troviamo un aggettivo giusto per descrivere un gesto così insensato e brutale. Continuiamo a pensare che il cane Peppino abbia solo voluto annusare un petardo non ancora esploso che scoppiando all'improvviso gli ha devastato il naso e parte del muso. Comunque sia andata la storia di questo bel cagnone ha commosso tutti e ha scatenato il web in una corsa contro il tempo. 2000 euro raccolti in un attimo e l'associazione per la protezione animali è riuscita a garantirgli un intervento chirurgico. L'equip di veterinari che si è messa a disposizione dello studio piano e pezzuto si avvalsa anche della collaborazione di un'esperta nella ricostruzione facciale di animali arrivata apposta da Roma. E così l'intelligenza, la solidarietà e l'amore per gli animali hanno avuto la meglio sulla cattiveria e la stupidità di chi continua a maltrattare cani e gatti commettendo tra l'altro un reato penale. Ma al di là della giustizia degli uomini ci piace pensare che Peppino con un nuovo naso e il muso rifatto ora avrà anche una casa che possa accoglierlo magari facendo contenta una bambina che dalla Germania ha scritto per lui una letterina carica di sentimenti e di bontà. Se c'è un cretino che si è divertito facendo saltare il naso a un cane è stato sommerso e dimenticato dalla risposta delle tante persone normali che hanno deciso fosse giusto salvare e prendersi cura di un cane come Peppino.